Allora nei primi due video precedenti abbiamo visto come installare Unity e come creare una piccola scena e come metterci l'editor emulator e il player ricordatevi che va sempre messo un empty che è diciamo papà della camera adesso invece vediamo come muoverci ora per muoverci dobbiamo ancora fare un attimo di piccole modifiche quindi innanzitutto dobbiamo prendere il player e il player gli aggiungiamo quello che sarà una capsule collider vedete che è diventata una... la capsule rappresenta praticamente il modo in cui il giocatore collide con le cose circostanti la capsule adesso è una specie di sfera ne la facciamo alta per esempio a un metro e ottanta quindi diventa effettivamente... vedete l'altezza più o meno quella di un uomo facciamo in modo tale che arrivi a contatto con il terreno quindi più o meno appena sopra e poi però ecco se questo fosse un uomo la telecamera che poi da dove vediamo non è a metà ma sarà un po' più in alto quindi dobbiamo andare nella main camera e gli mettiamo nella transform gli alziamo un po' la y quindi gli mettiamo 0,5 quindi diventa un po' più alta e se andiamo poi nel player vediamo che quindi la telecamera è un po' più alta e quindi rispetto al nostro corpo è un po' più alta quindi se voi poi volete modificare non è importanza ora l'altra cosa notevole è che noi vogliamo comportarci in modo fisico quindi la cosa da metterci è che noi siamo un corpo fisico quindi andiamo in add component e ci scriviamo rigid body quindi noi siamo un rigid body siamo un corpo fisico quindi come corpo fisico abbiamo una massa che non è tanto va bene siamo soggetti alla forza di gravità che è interessante e poi aggiungiamo questa freeze rotation che ci aiuterà a evitare di inciampare, cadere insomma con queste cose brutte provate eventualmente non metterlo e vedrete che cambia parecchia roba poi a questo punto abbiamo ancora bisogno di uno script per muoverci io l'ho scritto prima sì è finito probabilmente qua move questo move in realtà ce lo mettiamo slash scene ed eccolo qua move allora questo script lo vedete qua è uno script molto molto semplice comunque facciamo doppio clic lo vediamo nell'edito nell'edito gli ho messo un public float per dire la velocità a cui ci muoviamo visto che 10 magari è leggermente troppo veloce facciamo 5 e poi nell'update gli ho messo che se clicchiamo il bottone allora effettivamente ci muoviamo nella direzione della camera e come facciamo a muoverci nella direzione della camera? semplicemente alteriamo la nostra posizione aggiungendo alla posizione corrente vediamo la camera, camera main prendiamo il suo transform e vediamo dove sta puntando la camera quindi potrà essere a 360 gradi e a questa informazione che è un'informazione vettoriale quindi c'è un vettore particolare lo moltiplichiamo per la velocità del player e ancora per time delta time basta in questo modo input get button fire 1 agira soltanto quando clicchiamo sul mouse con l'emulatore o quando cliccheremo sul google cardboard quindi adesso andiamo a vedere dobbiamo associare questo script perché non l'ho ancora associato quindi voi dovete creare un nuovo script tipicamente lo fate da qua andate sul player e qui gli avrete detto add component voi gli fate un new script ma io l'ho già fatto cioè fate un new script gli date il nome move sempre con la M maiuscola io ce l'ho lo script perché avete visto che c'è già faccio move eccolo qua move e a questo punto abbiamo move abbiamo la velocità speed che gli mettiamo 5 allora mettendo 5 a questo punto salviamo tutto e vediamo se almeno l'emulatore ci permette di vedere che tutto funziona regolare quindi facciamo play se facciamo play vedete che il cubo gira per i fatti suoi se facciamo alt muoviamoci e se facciamo click vedete che con click noi ci muoviamo nella direzione in cui stiamo guardando e se andiamo verso il cubo non ci lascia passare perché abbiamo ecco praticamente ci respinge ecco addirittura noi abbiamo una massa un po' piccoletta quindi ci comportiamo male però ecco facciamo facciamo qualche piccolo cambiamento mettiamo una massa un po' più grande qua e poi magari mettiamo ancora di non usare la gravità non usare la gravità vuol dire essere in grado di volare quindi nel momento in cui facciamo questa operazione e facciamo il play a questo punto cosa facciamo andiamo sempre col click andiamo verso questo vedete che adesso rimbalziamo un po' di meno perché abbiamo un po' beh la tasse rimbalza sempre però abbiamo la possibilità se puntiamo verso l'alto e premiamo il click ci dovremmo alzare vedete ci siamo alzati in volo e quindi possiamo andare sotto ricordate che se mettete la gravità quindi questo avete il rischio adesso è che essendoci la gravità voi praticamente quando vi muovete potete cadere da questa piattaforma quindi andiamo click ecco facciamo così vedete che ecco vedete che stiamo cadendo e quindi cadendo finiamo nel baratro tra l'altro il piano dal sotto non lo vediamo perché il piano ha una sola faccia e quindi si vede solo dall'alto diciamo che questo è tutto per fare il movimento più semplice che sono riuscito a trovare e nella prossima nel prossimo video vedremo faremo la trasposizione di questo progetto proprio su android quindi vedremo lo vedremo girare su android se siamo fortunati a più tardi a più tardi a più tardi a più tardi